L'approvazione della legge sulla diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici in Puglia è un esempio di qualità legislativa che tutte le regioni dovrebbero imitare. Una legge di civiltà che tutela la salute dei cittadini emanata nel loro esclusivo interesse, lo dichiara il consigliere regionale del PD, Ruggero Mennea, primo firmatario della PDL per l'uso dei defibrillatori in ambito extra-ospedaliero, approvata dall'Aula regionale. Il loro utilizzo sarà dunque garantito oltre che in scuole, spiagge libere, ospedali, tribunali e uffici pubblici, anche in centri commerciali, discoteche, villaggi turistici, luoghi pubblici all'aperto e persino mezzi di trasporti compresi bus e treni. L'obiettivo della norma è quello di far acquisire alla popolazione la conoscenza e la coscienza della prevenzione rispetto al fenomeno dell'attacco cardiaco che rappresenta ancora la causa di morte nel 41% dei casi. Per il futuro, secondo Mennea, una delle priorità del governo regionale dovrebbe essere quello di cardioproteggere l'intera regione e, aggiunge, finalmente si istituzionalizza la cultura della prevenzione in questo campo specifico.